portate a vincere come c'è? ora facciamo la batteria la batteria è tutta libera non sbracciare lateralmente 11-10 per noi tutto libero mamma mia ma sicuramente sarebbe caduto se avesse passato la rete sarebbe caduto se avesse passato la rete questa palla cioè nel misto è vincente doppia 13-10 avete anche fatto sfavare il galo 14-10 sei in cielo Allo finiamoli siamo al match point 14-12 14-13 cambio coppia sconfitti staccate cioè riceve male venate con peggio rimanete a mura e non è neanche la botta forte non giocare dal centro sei leggibilissimo se leggermente sotto la palla nel senso che ti puoi buttare la schiena è presa qua leggermente leggermente poco sotto la palla 10-12 dai ho rimasto in piedi su c'è la palla in cielo ha alzato in controtempo non neanche saltato ma che palla farà mai vincolo cambio coppia no 10-14 no di attacco secondo fa la corsa vale doppio giusto quelli forti non devono perdere tempo i tre scambi se gioco una squadra nettamente più scanta perché devo fare i tre scambi devo risparmiare per quelle forti a me piace vincere le finale non tirare i tre scambi peccato hai tirato sullo sterno dovevi stare piatto sulla sabbia ecco il mio atleta insisti la scelta vincente è muoversi all'ultimo sul niente mi hanno detto che paga 13-10 13-11 anche lì gli battete corto non hanno la rincorsa attacco saltano poco non attaccano valorizzate quello che stai facendo 14-11 questo è bello ora ci siamo 14-12 14-13 15-11 15-11 15-11 cambia coppia 20-11 era brutto era brutta ma non era faglia ai riferimenti dove sei, noi prendiamo la presenza di difesa, noi siamo tenuti due movimenti. Bravo Galù! 12-11 Perfezione assoluta, 12 pari. 13 pari, mamma mia! La chiameremo galuggiata questa. Ho spaventato il muro! Oh bravo, bravissimo! 14-13 per noi! Sconfitti! A parte l'attacco che è una merda, tutto è corretto, è come doveva andare, ma non può fare altro. E' un po' eccessivo così, mio caro, questa non era male, questa è veramente di pollice, ribatti tu il po' eccessivo, no, 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 batti tu, no, 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 Pari tredici Eccola lì Certo L'attaccata dì 14-13 Vai, chiudili Anche la seconda volta li lasciamo a casa Sconfitto